Giorgia Crivello ha scattato una foto, che sembra molto simile a quella che ha pubblicato ultimamente Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram La fashion blogger, Giorgia Crivello, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto bollente Una foto che, come sempre, ha lasciato i suoi follower senza parole. La modella ha infatti pubblicato sul suo profilo una foto che ricorda quella pubblicata pochi giorni fa dalla showgirl argentina Belen Rodriguez La foto o di Giorgia.Qualche giorno fa, la conduttrice di Tussi Quevales ha postato sul suo profilo una foto sexy. Cio ha oting per me e poi insieme alla sorella, Cecilia per presentare la collezione per l'estate 2019 Un'immagine che è immortale a un paesaggio caliente. Deserto e i cavalli, i quali si sono prestati per delle foto insieme all'ex moglie di Stefano De Martino In queste ore, invece, la Crivelli ha pubblicato, per la gioia di tutti i maschietti, una foto che l'ha immortale su un cavallo Lo scatto fa il boom di lì che punto è stato un boom di mi piace. I fan hanno molto apprezzato lo scatto in quanto è la modella completamente nuda Un fan incantato dalla foto senza veli della bellissima modella ha commentato così la foto Muocci gravemente lo studio.È molto probabile che questo fan, abbia fissato per qualche minuto la foto prestando poca attenzione allo studio In passato il suo nome è comparso su alcune riviste di gossip, al tempo molti ipotizzarono, che Giorgia Crivello fosse la nuova fidanzata del pilota di MotoGP, Valentino Rossi In più interviste, la bellissima modella non ha mai nascosto il suo amore per i motori Il suo nome è il suo amore da